Buongiorno a tutti, come promesso c'è da parlare della Coppa Italia, quindi Atalanta-Juve di ieri sera e Milan-Lazio che si giocherà stasera, quindi partiamo dalla partita di ieri. Ieri pronti via, la Juve ha segnato subito e come dico sempre, quando loro segnano poi ti dicono bene, adesso se ce la fai pareggia. E l'Atalanta avrebbe anche potuto pareggiare con quel rigorino che giustamente i Juventini, ecco, usano la Barcelona contro di noi, eccetera, cioè basta, sempre a piano. Una volta erano le altre squadre che si lamentavano giustamente perché c'erano degli arbitraggi spesso scandalosi o comunque degli errori arbitrali a loro favore, non è che c'è stato solo in calciopoli, eccetera. Erano 40 anni che c'era la barzelletta, se qualcuno ha visto nell'82, eccezionale veramente, penso l'abbiano visto tutti, c'erano le battute dei due poliziotti fiorentino e romano ad Abbatantuono che faceva Tirzan, che era il tifoso della Juve, che gli dicevano tu ci hai fregato lo scudetto in quell'anno, tu ci hai fregato lo scudetto in quell'altro, eccetera, eccetera. Quindi già allora, qui parlo di 35-36 anni fa, c'erano le battute sul fatto che la Juve vinceva perché, quindi è inutile che andiamo avanti. Adesso si è girata la cosa, con la VAR sono loro che piangono e dicono ecco, non siamo tutelati. Eh, cari Juventini, purtroppo è una ruota che gira. Adesso tocca a voi, direi, non è giusto, che poi non è giusto. Braccio largo, era lì a fare yuppidu, 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 quindi è inutile, cioè, avesse il braccio così posso capire, a meno che non lo prenda in bago, ma aveva il braccio largo, quindi come da disposizione, braccio largo, rigore. È andato incontro con le braccia larghe, hanno detto che non si va incontro a un giocatore con le braccia larghe, quindi è calcio di rigore. Poi è andato anche bene, perché giustamente Gómez è trovato davanti il monumento e giustamente vuoi deturpare un monumento. No, gli ha tirato un rigorino ciofeca e siccome Buffon per quanto monumento è ancora bello reattivo, bello fresco, come direbbero, e gliel'ha preso. E quindi, niente. Perché adesso tutti a esaltare Buffon, Buffon ha parato il rigore. Ammettiamolo, era un rigore ciofeca. Bravo lui ad andare dalla parte giusta e tutto quanto, ma se uno tira un rigore bene, forte, preciso, nell'angolino basso, nel fatale angolino, come diceva Vezzio Melegari tanti anni fa, non lo prendi. Invece gli ha tirato un tiro che non era angolatissimo, non era fortissimo, e Buffon è sempre Buffon anche a 40 anni, come lo era Zoff a 40 anni quando non si dimenticava a casa le lenti a contatto. Quindi giustamente gliel'ha preso, l'unica chance che hanno avuto è stata quella. Poi è vero, hanno fatto l'assedio finale, sembrava, ma c'è poco da fare, la Juve, anche se gli fai l'assedio finale, è dura, è dura. Io ricordo solo forse l'Inter l'anno scorso, quando facemmo l'unica partita decente con Le Boer, che riusciamo a ribaltare la partita, forse perché loro non erano ancora al 100%, e forse perché noi abbiamo voluto vincerla quella partita, perché stavamo meritando comunque di vincere anche quando ha segnato Lee Steiner. Infatti dissero i cronisti che la Juve ha segnato nel momento migliore dell'Inter. Fortunatamente invece di Abbatas gli sono girate le scatole, stranamente, e sono riusciti a ribaltarla, ma se no è dura, è dura. E quella è la differenza. Io continuo a vedere questa grossa differenza tra il Napoli e la Juventus. A Juventus il compitino segna, finita. Poi si mettono lì, tranquilli, prego, provate a segnarci. Il Napoli, pronti via anche col Bologna, prende il gol. Rischia di prenderne un altro dopo il pareggio, che gliel'hanno regalato tra l'altro, perché ha fatto la sciocchezzuola en baillet. Poi dopo ha meritato di vincere, ci mancherebbe, ma si devono sbattere, si devono sempre sbattere, devono sempre giocare, non dico al cento, ma almeno al novanta per cento. Io mi gioco al cinquanta per cento, a mezza velocità, e tendenzialmente con almeno dieci, dodici squadre vince facile. Poi, vabbè, c'è la solita, ecco, si sono scansati. Non è che si scansano, una è più forte. Quelli cercano di fare il loro bel catenaccino, eccetera, quando prendono il gol si disuniscono, dicono, vabbè, abbiamo preso il gol, vediamo di non prenderne altri, portiamo a casa questo 0-1 che va benissimo e chi se ne frega. Con Napoli sanno che invece possono giocarsela, perché comunque purtroppo il Napoli qualche occasione la lascia. Eh, c'è poco da fare. Bene, detto questo, quindi vittoria comunque meritata della Juve, che ha già ipotecato l'ennesima finale di Coppa Italia. Vedremo se giocheranno con la loro bestia nera, Lazio, o con il Milan, che è un'altra comunque bestia nera, visto che li ha buttuti in Supercoppa, e vediamo cosa succede. Veniamo alla partita di stasera, o quale teoriche formazioni. Milan-Lazio, rivincita della partita di domenica. Allora abbiamo, per il Milan giocherà il fratello di Donnarumma, quindi a Donnarumma in porta, a Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez, difesa. Chessi, Biglia, Bonaventura, Suso, a centrocampo, e Calinic e Cialanoglu, oppure giocano col 4-3-3, quindi Chessi, Biglia e Bonaventura centrali, e poi Suso, Calinic e Cialanoglu a dare una mano con anche Bonaventura pronto a inserirsi, che lui è molto bravo, a differenza dei nostri, loro sanno inserirsi. La Lazio invece giocherà con Stracoscia, Caceres, Wallos, Radu e Basta in difesa. Parolo, parolo, non parola, parolo, leva, Milinkovic, Savic, Lulic e Anderson e Immobile in attacco. Quindi partita sicuramente bella, divertente, c'è questa novità Wallos al centro della difesa, vediamo cosa combinerà contro Calinic, e è dura, è dura, mi sa tanto che il Milan fa il miss, vince anche stasera, io non ci azzecco mai, quindi la butto lì, visto che l'ultima volta ho detto Is2, Milano-Lazio, e invece mi ha sorpreso una Milan, magari stasera che mi aspetto la vittoria del Milan, di misura, non credo finisca 2-3-0, presumo un 2-1 ancora, o 3-2, punteggi così, 1-0. Magari chi vuole vedersi la partita, spero in un 3-2 che così si diverti, Milanisti un po' meno perché un 3-2 è un risultato molto a rischio, però le possibilità ci sono, mi sembrano due squadre molto più votate a puntare alla vincere che non a fare l'1-0-0 classico da catenaccio, quindi penso che anche stasera, forse più di ieri, perché ieri francamente qualcuno ha scritto giustamente gol della Juve, poi fuffa. Diciamo che non è stata una partita spettacolare, a parte gli ultimi 5-10 minuti in cui l'Atalanta ha messo un pochettino sotto la Juve senza creare nulla di eccezionale, però erano lì che ci provavano e la Juve è stata un attimino messa, un attimino in difficoltà, quindi qualche pallone buttato via, non riusciva più a uscire dalla metà campo. Quelle rare volte che però ci riuscivano partivano in contropiede perché Iguain la sa tenere la palla e poi dopo, anche perché Iguain mi sa che sta andando in forma Champions, adesso mi sa che a metà febbraio c'è la Champions e lui sarà bello tirato, preciso e vediamo cosa succede. Bene, vi saluto, buona partita per stasera, vi ringrazio, spero abbiate visto anche gli altri due miei video che sono andati in onda questa mattina che ho fatto ieri e niente, ci vediamo domani per parlare appunto della partita della Lazio Milan naturalmente e magari farò qualche video nuovo, simpatico, particolare. Ciao!